Giorgio D'Ignazzo è stato approvato il piano strategico del turismo 2017-2019 dopo più di 5 anni, insomma uno strumento per rilanciare il nostro territorio. Sì, l'ultimo piano era scaduto nel 2012 e credo che abbiamo fatto un lavoro intenso, forte e anche di grandissimo impatto a livello nazionale perché oggi l'Abruzzo è coordinatore di tutti gli assessori al turismo a livello nazionale, quindi abbiamo realizzato il piano strategico del turismo dell'Abruzzo che si inserisce perfettamente nel piano strategico del turismo nazionale, per la prima volta quindi in assoluto. È un piano strategico che nasce, e devo dire grazie al vicepresidente Giovanni Lolli, al direttore Francesco Di Filippo e a tutta la struttura del turismo regione Abruzzo, nasce ponendo l'Abruzzo diversamente rispetto a come è sempre stato posto al centro quindi di un mercato nazionale e internazionale. Perfettamente inserito in un piano strategico nazionale, oggi l'Abruzzo è pedina principale del turismo nazionale. Tre mesi di assessorato dal 9 aprile, tantissimi gli eventi messi in campo, tutti con grande risalto e adesso anche un portale. Adesso vi invito ad andare a cliccare su www.abruzzo.it. Guardate quello che per tanti anni è detto che faremo questo portale, abbiamo un booking regionale, quello che doveva essere qualcosa che non... Se è sempre parlato, se ne è sempre parlato, quando ne abbiamo parlato mi ricordo che un collega, un politico, un collega importante mi ha detto E' rimasto incantato, sono contento perché veramente perché io torno a ripetere così come ho fatto l'assessore al Comune di Termo, così come ho fatto io, non sono bravo o più bravo di un altro. Io coinvolgo tutti nel lavoro e questa è la mia forza, quella di avere l'umanità e anche l'energia e la voglia di fare tutte le cose insieme. Quando tutti coloro che fanno parte di una struttura si sentono motivati a lavorare, a fare, a guardare lo stesso obiettivo, si raggiungono gli obiettivi. Altrimenti imponendo con la forza o magari con la supponenza non si riesce ad avere. Ho creato amicizie anche con altri responsabili dei vertici del turismo, per esempio il Presidente della Saga, la Federalberghi, la Commercio, tutti quelli che hanno responsabilità nel settore e insieme stiamo guardando ai risultati. E' per questo che arriviamo al risultato insieme, perché se uno pensa di poter fare da solo non riesce. La squadra vince, non vince il singolo, anche se il singolo è più forte del mondo, se poi una squadra ha un grandissimo attaccante ma non ha un portiere, non ha una buona difesa, magari fa tanti gol ma ne prende sicuramente di più. Questo è importante, il lavoro di squadra.